L'elettrica in Trentino, partendo un po', vediamo un po' che mi ha spiegato che si preme questo, io premo questo, qual'è che devo premere per andare avanti? Questo qui, questo, e perché se lo premo non va avanti? Qualcuno l'ha spenta. Vedete che necessariamente con i trasporti, vedete che l'Italia come gli altri paesi europei hanno un trasporto passeggeri estremamente elevato per quanto riguarda le automobili, le automobili è ovvio, vi danno una flessibilità, una possibilità di mobilità enorme e quindi più che il trasporto urbano, più che i bus e i treni si utilizzano le automobili. Questo ormai è un dato risaputo, vedete che l'83% è del trasporto su veicoli stradali. Se vediamo anche per quanto riguarda il trasporto ferroviario, anche questo possiamo distinguere tra la parte di trasporto nazionale e internazionale, vedete che il Lussemburgo è praticamente un paese di passaggio, le scritte purtroppo sono piccole, non sono riuscito a farle più grandi, il Lussemburgo è quello centrale che ha un passaggio enorme attraverso il Lussemburgo stesso di traffico internazionale, mentre noi abbiamo non un passaggio dei treni internazionali perché chi viene in Italia poi alla fine trova solo l'acqua e si deve fermare. E questa è un po' l'indicazione del numero di passeggeri per ogni chilometro per abitante. Sono numeri normalizzati per darvi un'idea come al di là di alcuni paesi, come vedete indicato nel grafico, ci sono delle situazioni abbastanza frequenti tra la distribuzione dei passeggeri, eccetera. Quello che è interessante è vedere un po' la variazione anche del traffico dei trasporti negli ultimi 10-15 anni, dal 2003 al 2015 ad oggi. Guardate che non è cambiato molto perché la gomma si porta via ancora un 36-40% del trasporto, la ferrovia ne porta via pochissimo purtroppo perché potrebbe essere un mezzo di trasporto molto più interessante, soprattutto per le merci e poi il mare un altro 50% e l'aereo pochissimo. Altra cosa interessante che vedete nell'ultima colonna a destra è il cambiamento dal 1981 ad oggi, dal 2016, diciamo a due anni fa, per quello che è il numero di abitanti per numero di macchine. Vedete com'è cambiato il rapporto, una volta c'erano circa tre persone per macchina, adesso c'è una persona per ogni macchina. Questo è curioso associarlo anche al cambiamento rispetto all'architettura. Se voi pensate all'architettura delle case di 50 anni fa, c'erano delle case senza garage, con tre stanze, e quindi tante stanze, tante persone e niente macchina. Poi si è passati a due stanze e un garage singolo, e adesso se comprate casa più o meno c'è tutto il garage doppio con una sola stanza dove eventualmente vive una persona singola o al limite una coppia. E questo si riflette anche sull'ultima colonna dove vedete che c'è il numero di abitanti per autovetture che è praticamente calato di un terzo, da tre a uno. Per quello che riguarda la parte della provincia di Trento è stata poi realizzata una indagine sul numero di veicoli e quindi conseguentemente sul numero di abitanti per autovetture e ovviamente la parte predominante è quella della Valle dell'Adige dove ci sono circa 300.000 veicoli circolanti e quindi cala tantissimo il numero di autovetture e anche il numero di abitanti per autovettura. Però vedete che nella Valle dell'Adige fa parte poi Trento dove ci sono una serie di veicoli come autobus, come mezzi di trasporto, come autoveicoli, autocarri che falsano un po' questa statistica. Mentre vedete che dalle altre parti grosso modo si rientra sempre intorno a quel valore, intorno a 1,5-1,6 di numeri di abitanti per autovettura. Queste sono altre indicazioni che possono dare un'idea della mobilità in quanto tale per numero di autobus, treno separati per il servizio urbano che riguarda Trento, Rovereto, Altogarda. Vedete che i viaggiatori trasportati a Trento sono circa un 20 milioni nel corso di un anno con il numero di corse eccetera e vedete che la gran parte sono quasi la metà con tariffe agevolate, quindi oltre 11 milioni di persone trasportate. Per quanto riguarda poi la situazione del trasporto urbano, del servizio extraurbano, del Trento Malè e così via, vedete che si arriva ad un numero di autobus, di treni che sono circa 700, fanno qualcosa come 22 milioni di chilometri all'anno il servizio dei trasporti delle persone, questo è riferito all'anno 2016 e qua potete vedere appunto anche il numero di viaggiatori trasportati che sono intorno ai 50 milioni complessivamente tra la funivia, il servizio ferroviario, il Trento Bassano e così via e di questi oltre la metà, quasi il 28 milioni sono di tipo agevolato con abbonamenti studenti e così via. Per quello che riguarda proprio specificatamente la mobilità e il trasporto su strada, questa è una tabellina molto sintetica che vi dice come in Trentino ci sono un numero di strade suddivise per settore in 8 settori corrispondenti a circa 2500 km di strade all'interno del Trentino. Uno dovesse percorrere tutte avrebbe questa possibilità di fare 2500 km di cui vedete soltanto 39 km sono di altri enti ma fondamentalmente sono tutti legati alla mobilità della provincia autonoma di Trento. Altra statistica che abbiamo fatto per capire un po' come intervenire con l'incentivazione e la mobilità elettrica che poi vedremo tra un attimo è stata la suddivisione del numero di autoveicoli per tutti i punti di controllo di passaggio ce ne sono quasi un centinaio in tutto il Trentino e sono quei sistemi di lettura del passaggio delle macchine che sembrano degli autovelox in realtà servono solo per contabilizzare e contare il numero di autoveicoli che passano. A questo proposito vedete che la maggior parte vengono concentrati dalla parte della Val Sugana avete la parte di Levico, Montevideo dove ci sono i punti di accesso a quelle che è il capoluogo alla città di Trento. Altro punto interessante del Trentino non è solo la mobilità relativa ai residenti ma è anche relativa al numero di turisti questa è una tabella che vi dice il numero di presenze il numero di passaggi e quindi anche il numero totale di autoveicoli supposto di prendere e considerare 3-4 persone per autoveicolo suddivisi per esercizi di alberghieri esercizi complementari all'aroggi privati, seconde case e vedete che in totale ci sono quasi questa è una tabella del 2016 ci sono oltre 4 milioni di presenze in Trentino per quanto riguarda la parte turistica quest'anno ci sarà un picco dovuto alla donata degli alpini fra un mese ma questo esce ovviamente dalle statistiche delle medie su questo vedete per il mese di agosto considerate una presenza di 680.000 persone se pensate che ci siano 2-3 persone per ogni autoveicolo c'è un aumento di autoveicoli intorno alle 200.000 unità su questo poi vedremo un attimo come è stata suddivisa la distribuzione del punto degli incentivi per migliorare quella che è la mobilità locale ma anche per migliorare quella che è la mobilità del tipo turistico ora per arrivare un po' un po' più a focalizzarci sulla parte della mobilità elettrica c'è un breve riassunto di quelle che sono le direttive europee che riguardano gli aspetti della mobilità elettrica e in particolare quello che viene stato recepito da queste direttive dall'Italia attraverso il PAN cioè il piano di azione nazionale del 2010 e il piano nazionale delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli quelle che viene in sintesi chiamato il PNIR oltre a questo l'anno scorso a gennaio del 2017 è entrato in vigore anche il decreto legislativo del 16 dicembre 2016 che riguarda proprio espressamente le modalità dei servizi per le ricariche degli autoveicoli non alimentati da combustibile fossile allora per quanto riguarda i veicoli elettrici è stata fatta questa classificazione in modo da inquadrare le varie, le diverse tipologie di utilizzo dell'automobile per capirne un po' i flussi andando a distinguere quelli che possono essere considerati utenti privati o pendolari quelle con percorrenze medio-basso o con percorrenze medio-alte legate comunque sempre al pendolarismo è stato fatto un altro gruppo che riguarda le flotte aziendali e della pubblica amministrazione compreso il trasporto pubblico le flotte per il trasporto merci urbano perché poi con la veicoli elettrici questo consentirebbe anche la distribuzione delle merci all'interno dei centri storici quelli che sono i taxi quelli che riguardano il car sharing e poi il gruppo che abbiamo visto prima delle presenze che riguardano i turisti e gli utenti di tipo occasionale per quello che riguarda specificatamente il Trentino avevamo una statistica alla fine del 2016 il piano infatti è stato fatto nel 2017 poco più di sei mesi fa quindi è stato approvato alla fine di settembre 2017 quindi avevamo i dati del 2016 al 31-12 erano stati immatricolati in Trentino circa un migliaio di veicoli con alimentazione elettrica e vedete poi anche a livello europeo com'è il notevole incremento dei numeri di veicoli elettrici che sono stati venduti suddivisi per le varie tipologie poi lo vedremo meglio nello specifico cosa vuol dire BEV, PEV eccetera eccetera che riguarda il tipo di alimentazione elettrica altro punto importante siccome non si parla solo di automobili di veicoli elettrici si parla anche di biciclette elettriche anche queste sono state incentivate dalla provincia attraverso una delibera che vedremo successivamente di cui vi darò gli estremi le bike è una bicicletta così chiamata non elettrica ma pedalata assistita e questo è diciamo un barbatrucco per evitare il fatto che le biciclette non dovessero installare la targa perché la pedalata risulta tecnicamente fatta dalla persona la parte elettrica interviene solo a collaborare attraverso la persona se così non fosse sarebbe un veicolo dotato di proprio motore quindi dovrebbe essere immatricolato con tanto di targa quindi il fatto di chiamarla pedalata assistita prevede proprio il fatto di non avere la targa di avere un libero uso delle biciclette queste sono in fortissima espansione normalmente hanno un motore che viene installato come vedete nella parte alta della bicicletta o viene installato all'interno dei mozzi della bicicletta che sono mozzi molto più grandi con dei motori elettrici e la batteria può essere alloggiata in diversi spazi perché la batteria può essere alloggiata al posto del porta borracce può essere alloggiata nel porta pacchi posteriore molto spesso la batteria è facilmente estraibile perché poi così può essere ricaricata anche in una presa di casa in maniera molto comoda per quanto riguarda invece le auto elettriche bisogna un po' distinguere tra le auto puramente elettriche quella che vedete in alto a destra è un'automobile puramente elettrica quindi è un'auto che viene alimentata direttamente da batteria la batteria viene ricaricata con una presa con un attacco che si può collegare a delle colonnine oppure a una presa di casa non esistono altri motori quello è un disegno molto semplificato perché prevede un unico motore che venga utilizzato per entrambe le ruote ma ci sono modelli più sofisticati che prevedono per esempio quattro motori differenti uno per ogni singola ruota quindi con anche una notevole sicurezza in modo da avere quattro ruote motrici per quanto riguarda la parte elettrica altra situazione invece è quella dei modelli ibridi quindi ci sono i modelli ibridi serie e i modelli ibridi parallelo quello che vedete lì in basso a sinistra con quello schermino arancione è un modello così chiamato PEV che vuol dire Plug-in Hybrid Electric Vehicle che è un sistema che ha un doppio motore uno a combustione interna e uno elettrico vedete che le ruote possono essere alimentate indipendentemente o dal motore a combustione interna o dal motore elettrico il motore elettrico comunque è dotato di una batteria e la batteria ha un accesso dall'esterno per fare il rifornimento della batteria e quindi per poterla ricaricare così come c'è un accesso dall'esterno per fare il rifornimento di combustibile quindi queste sono macchine chiamate Plug-in nel senso che Plug-in vuol dire che hanno la presa per essere alimentate con un cavo di alimentazione questo è un ibrido parallelo abbiamo detto un ibrido invece serie prevede un motore a combustione interna che vada a ricaricare le batterie che poi vanno ad alimentare il motore elettrico in questo caso non c'è un accesso diretto alla batteria la batteria viene ricaricata dal motore a combustione interna quindi non c'è un plug-in non c'è una presa per essere alimentata ma viene a esserci soltanto il bocchettone per l'ingresso del combustibile fossile ora da un punto di vista tecnologico le auto elettriche presentano dei notevoli vantaggi uno di questi per esempio è l'assenza delle marce se pensate ai treni elettrici i treni elettrici dopo i treni a vapore hanno sempre utilizzato dei sistemi di trazione elettrica perché? perché la trazione elettrica ha una caratteristica coppia motrice in funzione del numero di giri simile ad una parabola quella curva nera che vedete sulla parte più laterale destra è proprio la caratteristica che serve per la trazione serve una coppia motrice molto alta quando avete l'avviamento della macchina e serve una coppia motrice più bassa quando la macchina è lanciata perché dovete vincere non tanto più la spinta iniziale della macchina ma dovete vincere soltanto gli attriti contro l'aria nelle automobili a combustione interne non c'è questa flessibilità ma questa flessibilità viene utilizzata con il cambio vedete allora le curve tratteggiate quella rossa quella blu e quella verde che sono le caratteristiche coppia velocità di giri per le diverse magie per il rapporto diverso di ingranaggio il fatto di mettere prima, seconda, terza quarta e così via fino alla sesta o alla settima marcia vuol dire cambiare questo rapporto coppia motrice numero di giri e quindi riuscire a ricostruire quella curva nera fatta a iperbole che i motori elettrici hanno già per loro natura quindi sono già comodi per questo oltretutto il motore elettrico ha una flessibilità di controllo estremamente elevata perché essendo poi alimentato attraverso il sistema di conversione statica bastano dei semplici sensori che rilevano il fatto dello slittamento delle ruote per limitare le coppie infatti se voi fate qualsiasi diciamo escursus in youtube per vedere i confronti delle accelerazioni tra macchine con combustione interna o macchine con alimentazione elettrica le macchine con alimentazione elettrica vinceranno sempre perché arrivano sempre al limite del pattinamento delle ruote quando le ruote cominciano a patinare entra in gioco un sensore che funziona al contrario dell'ABS quando l'ABS sente le ruote che si bloccano le sblocca invece questo sensore fa esattamente il contratto quando sente che le ruote slittano diminuisce la coppia e quindi sono sempre al limite della coppia della tenuta mentre le auto con combustione interna non riescono a fare questo vedete le macchine di Formula 1 che fanno slittare le gomme e quindi perdono un po' più di aderenza un po' più di accelerazione per quello che riguarda invece le macchine elettriche c'è un problema di accumulo dell'energia necessaria perché c'è questa difficoltà perché la grossa limitazione delle auto elettriche è legata all'accumulo dell'energia qua c'è una scala molto semplice che riguarda la densità per peso ovviamente la migliore densità per peso ce l'hanno sono i combustibili nucleari però questo è risaputo perché i combustibili nucleari vengono utilizzati per le navi per i sottomarini per tutte quelle grandi mezzi di trasporto che permettono anche di avere una certa dimensione degli impianti e quindi di avere un sistema di combustione nucleare a bordo ci sarebbe poi l'idrogeno che ha un'elevata densità di energia per peso però l'idrogeno ha una serie di complicazioni non trascurabili tenuto conto del fatto che non è un'energia disponibile è un diciamo è un sistema per accumulare energia va creato e poi utilizzato allora tutta la catena partendo da un valore 100 di unità di energia per creare l'idrogeno e per poi riconvertirlo e essere utilizzato arrivate ad avere un'efficienza di circa 14 15 quindi un rendimento globale abbastanza basso ci sono poi i combustibili fossili che hanno un valore intorno a 10 come kilowattora per chilo e poi gli accumulatori elettrochimici che hanno un valore circa 100 volte inferiore per darvi un'idea per avere proprio un punto pratico se voi prendete la batteria di una macchina un po' grossetta da 80 a 100 amperora e lo sollevate quello ha una densità quello scusate ha una energia pari ad un decimo di quella che teoricamente avrebbe un litro di benzina quindi un litro di benzina pesa un chilo ha dentro 10 kilowattora teorici poi ne vengono utilizzati soltanto un terzo per vedere rendimenti una batteria che pesa 6-7-8-10 chili una batteria più un boacido c'è dentro un solo di quei kilowattora ma a questo proposito ogni volta io mi diverto ogni volta a mostrare quanto vale l'energia perché si parla di kilowattora però uno non ha idea cosa vuol dire il kilowattora l'energia vuol dire anche sollevare un peso quindi se voi prendete la batteria di un telefonino che ha circa un wattora io ho semplificato molto le ultime batterie hanno anche 2-3-4 wattora però prendete una batteria di quella di qualche tempo fa di un wattora voi con un wattora facendo un'equivalenza di energia quindi di sollevamento di un peso riuscite a sollevare 7 damigiane piene di vino diciamo di quello buono anche tanto tanto vale sollevarlo è meglio sollevarlo che sia buono di un metro un litro di benzina e io qua non sapevo come rappresentare la benzina per cui l'unico modo per dare l'idea di un litro di benzina poteva essere quello di una bomba molotov quindi un litro di benzina ha dentro 10.000 wattora quindi con un litro di benzina teoricamente si possono sollevare di un metro da terra 70.000 damigiane di vino buono ora per darvi un'idea voi provate a immaginare di prendere una persona al di là dei rendimenti perché poi di quei 10 kilowattora se ne utilizzano soltanto un terzo e gli dite guarda c'è quel tavolo lì alto un metro fammi un favore sollevami 70.000 damigiane di un metro poi quando è finito ti do un euro e mezzo che è il costo della benzina allora forse vi rendete conto che l'energia ha un valore sicuramente sottodimensionato stiamo utilizzando dell'energia ad alta densità come la benzina la stiamo sprecando in maniera vergognosa poi si innescano tutti i fenomeni di concorrenza perché chi ha l'energia a basso costo riesce a produrre prodotti a costi minori eccetera ma se voi provate a immaginare quanto vale appunto un litro di benzina e lo paragonate col sollevare 70.000 damigiane capite che per un euro e mezzo è sicuramente sottovalutato questo per darvi un'idea di cosa stiamo parlando quando parliamo di una batteria da 20 kilowattora 40 kilowattora la Zoe adesso è uscita con una macchina che fa 40 kilowattore Tesla ha annunciato una macchina che avrà una batteria da 200 kilowattora sarebbero 20 litri di benzina in teoria 200 kilowattora con 200 kilowattora si fanno circa 5 chilometri chilometri e una macchina che potrebbe fare 1.000 chilometri una macchina elettrica allora altre cose di tipo tecnico fatemi verificare che orario è perché ho pochissimi minuti quindi magari le ultime cose che erano delle curiosità ve le lascio come domande ci sono diverse modalità di ricarica queste sono alcune indicazioni tecniche qua lo vedete in maniera un po' più semplice le modalità più banali sono quelle di ricaricare con la presa di casa quindi basta una presa un cavo che porti fino a 16 ampere e quindi caricate a filo di un massimo di 3 kilowatt ah tra l'altro togliete un attimo lo spauracchio di dire prendo l'auto elettrica la metto sotto carica a casa e non posso fare altro perché 5 minuti vero eh lo so ho capito pensavo fossero 5 ore ma sì lo so perché le automobili elettrici possono essere programmate come ricarica se voi dite io devo guardare la televisione devo fare la lavatrice devo fare andare la lavastoviglia eccetera eccetera fino alle 11 di sera potete dire metto la macchina in carica dalle 8 alle 9 di sera fino alle 11 a metà potenza che assorbe un kilowatt e mezzo e poi dalle 11 in poi assorbi 3 kilowatt quindi c'è questa possibilità non c'è lo spauracchio di dire attacco la macchina e mi si spegne la casa la seconda possibilità è quella della tipologia 3 che riguarda le colonnine sempre in alternata fino ai 22 kilowatt è quella più veloce quella con la ricarica in corrente continua ad alta potenza e qua appunto naturalmente di conseguenza ci sarà una sosta prolungata fino a 2 o 10 ore oppure una sosta breve oppure una fermata ecco le soste brevi normalmente sono intorno alla mezz'ora chi ha l'auto elettrica sa bene queste cose c'è qualcuno che ha l'auto elettrica qua dentro? no chi ha l'auto elettrica quando fa delle soste per diciamo fare una breve ricarica alla batteria su un lungo viaggio di qualche centinaio di chilometri lo chiama biberonaggio perché fa una ricarica di 20 minuti mezz'ora arriva fino all'80% di ricarica della batteria che è la cosa più rapida e poi riparte quindi non ci sono queste queste paure di restare fermi per ore per ricaricare questi sono i vari tipi di attacco io qua corro un attimo purtroppo perché il tempo è tiranno i vari tipi di attacco fondamentalmente adesso si utilizza quello centrale quello chiamato tipo 2 questo è lo stesso tipo di attacco lato automobile e lato colonnina elettrica tra l'altro colonnina elettrica ci sono anche esposte qui da qualche parte per farvi vedere tecnologicamente come funzionano questi sono gli attacchi invece per quanto riguarda le connessioni in corrente continua questo per farvi vedere che la ricarica delle auto potrebbe avvenire proprio come venete con due sistemi uno in alternata all'interno della macchina ci deve essere però un sistema vedete sulla parte sinistra quello verde un sistema di conversione alternata continua perché poi le batterie vanno in continua dal lato invece della corrente continua c'è un accesso diretto alla batteria quindi una ricarica estremamente più elevata anche con tensioni e con correnti più elevate insomma questa è la distribuzione dei punti attualmente in uso disponibili per le ricariche elettriche in Trentino sono abbastanza distribuite nel Trentino la provincia ha pensato di fare questo piano della provinciale per la mobilità elettrica per fare fondamentalmente una cosa togliere quello che è l'ansia della ricarica cercando di installare da qui al 2025 qualcosa come 2500 colonnine per la ricarica elettrica in maniera tale che chi compra l'auto non ha più questa ansia di dover ricaricare già il piano provinciale per energetico del 2013 prevedeva che si arrivasse a qualche migliaio di auto e ci stiamo in qualche maniera raggiungendo poi questo bisogna vedere fino al 2050 quante auto si arriverà davvero questa è la cosa forse più importante che vi può interessare le delibere già uscite nel 2017 che riguardano gli incentivi per i veicoli per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in per l'acquisto dei sistemi di ricarica per l'acquisto dei progetti di mobilità sostimili per le e-bike quindi penso che comunque poi la provincia sia disponibile a darvi tutte queste informazioni per l'acquisto delle auto elettriche si arriva fino all'incentivo di 6.000 euro per le auto solo elettriche e di 4.000 euro per le auto plug-in ibridi plug-in come per quanto riguarda invece i sistemi di ricarica qui io purtroppo devo correre un attimo è stata fatta una suddivisione per comuni nuclei familiari imprese alberghi si spera di riuscire a piazzare a incentivare tutte le strutture ricettive in maniera tale che da qui a pochi anni ogni struttura ricettiva possa avere almeno una colonina di ricarica le imprese ovviamente per quelle che hanno più di 50 dipendenti vengono incentivate a installare la colonina di ricarica in maniera tale che il traffico pendolare tra le colonine da installare presso la propria abitazione e il lavoro possa permettere di ricaricare la sera andare a lavorare ricaricarla intanto che si lavora e poi tornare tranquillamente anche se poi l'autonomia delle macchine sta crescendo notevolmente per quanto riguarda i comuni la provincia sta ancora cercando di trovare una soluzione che sia omogenea su tutto il territorio del Trentino sia come forma di alimentazione che come forma anche di pagamento e di utilizzo e quindi anche poi per quanto riguarda la parte dei dei parcheggi dei punti comuni l'area Zufo per esempio Montebaldo eccetera eccetera si pensa di arrivare fino a 2500 colonnine da qua al 2025 quindi da qui a dopodomani perché 5, 6, 7 anni volano in un attimo quindi vedete circa 1600 colonnine per le strutture ricettive e limitare il numero di colonnine per la ricarica veloce sui punti di accesso all'autostrada qua ci sono vari modelli varie soluzioni come vedete e varie tipologie di automobili il divario comincia a essere molto piccolo tra un'auto a combustione interna e un'auto elettrica l'unica cosa che c'è ancora questa mentalità dove l'auto elettrica viene a essere considerata un bene come dire di costo ancora per pochi e quindi non ci sono i modelli economici ma chi compra l'auto elettrica per esempio chi compra la Golf trova solo il modello super accessoriato e quindi la Golf va confrontata con quella che è il top della gamma delle Golf per esempio la cosa interessante è questa qua ci sono i consumi per quanto riguarda le auto e consumo interno e motore elettrico vedete che con un'auto elettrica tenuto conto dei costi di manutenzione tenuto conto del risparmio sul bollo e così via si risparmia qualcosa come 1000 euro all'anno più o meno altra cosa che invece riguarda la parte ambientale è il fatto poi anche di non avere grande manutenzione perché non c'è più il cambio dell'olio non c'è più il cambio dei filtri filtro del combustibile filtro dell'aria filtro dell'olio eccetera non ci sono più c'è soltanto il cambio delle gomme e quindi oltre a non avere emissione per combustione dei veicoli si riduce anche l'emissione delle particelle PM10 perché la frenata non è più di tipo meccanico se non in maniera di emergenza la frenata è di tipo elettromagnetico quindi l'auto viene ricaricata quando frena e di conseguenza non esiste più neanche la formazione di particolato dovuto alle pastiglie dei freni se voi vedete volevo farvi vedere questo quello è il disco di una macchina elettrica dopo mi pare 30.000 km siccome non all'opera i freni i cerchioni rimangono estremamente puliti torno un attimo indietro perché poi ci sono degli aspetti di sicurezza qualcuno ha paura dell'elettrocuzione ci sono delle norme europee n-cap che riguardano la sicurezza delle macchine che richiedono proprio l'involucro delle macchine altro tipo di segnalazione è il problema che l'auto elettrica arriva ma non la sentite quindi sotto una certa velocità c'è anche l'obbligo di avere un segnalatore acustico e poi alcuni dati come vi dicevo in base alle pm10 devo correre un po' un attimo alla fine c'è sicuramente una necessità per passare a delle novità questo è inevitabile tutti pensano di poter avere l'auto elettrica e di sostituirla pari pari con l'autocombustione interna l'autocombustione interna la prendete salite in macchina andate a Roma tornate fate un pieno di benzina non ci pensate più l'auto elettrica prevede un uso un po' diverso ma questo è su qualsiasi cosa e questa è una cosa che vale non solo per l'auto elettrica ma per qualsiasi tipo di cambiamento e io vorrei appunto concludere con questa frase qui perché bisogna cambiare modo di ragionare non l'ha detto una persona qualsiasi ha detto Albert Einstein non possiamo pensare di risolvere i problemi con la stessa mentalità che li hanno generati quindi se vogliamo cambiare un certo tipo di vita di consumo un certo tipo di inquinamento bisogna che noi per primi cominciamo a cambiare la mentalità ho cercato di stare nei tempi recuperando qualche minuto che di ritardo iniziale grazie mille a Maurizio Fauri dell'Università di Trento per averci raccontato la mobilità elettrica e noi continuiamo appunto nel tema della mobilità e quindi vi invito a rimanere qui in sala 1 perché vedremo adesso un metodo alternativo sostenibile e divertente per fare mobilità non va non va vuota ok grazie a tutti